carissimi amici del canale youtube dentro la notizia nel nostro paese e in altre parti del mondo stanno accadendo terribili violazioni dei diritti umani la ragione di tutto ciò è che i media mainstream hanno fatto il lavaggio del cervello alle persone meno riflessive e le hanno addirittura indotte a chiedere una dittatura sanitaria che li proteggesse da una terribile calamità la tv riesce a farti vedere cose che non esistono poi succede un giorno che decidi di fidarti solo di ciò che i tuoi occhi vedono solo di quello che i tuoi sensi percepiscono decidi di uscire dalla matrix e inizi a vedere tutto un mondo a colori una terra meravigliosa con tanta gente come te così ti accorgi che non esiste nessuna emergenza non c'è alcuna ragione valida per rinnovare uno stato che sa tanto di regime dittatoriale di repubblica delle banane molte persone hanno voglia di tornare a vivere e il desiderio di libertà inizia a diffondersi nell'aria e come un virus contagia sempre più persone sta arrivando l'estate ma l'uccello del malaugurio cinguetta la solita canzone stonata tutti devono essere vaccinati ho appena firmato una lettera per dire alle regioni di continuare a cercare in maniera attiva gli over 60 ad oggi ne mancano all'appello circa 2,8 milioni lo ha detto il generale francesco paolo figliuolo a margine di una visita al centro vaccinale dello spallanzani cercare in maniera attiva magari come disse il bonaccini li staneremo casa per casa ma caro figliuolo non ti rendi conto che forse coloro che mancano al tuo appello forse non hanno proprio intenzione di vaccinarsi figliuolo poi spiegato probabilmente ci sono circa 100 mila persone che hanno dei dubbi sulla vaccinazione terologa secondo il commissario si tratterebbe di circa il 10 per cento dei 950 mila che hanno fatto la prima dose di astrazeneca e aspettano per la seconda ma caro figliuolo se dopo aver preso il primo colpo rifiutano il secondo devi fartene una ragione avranno i loro buoni motivi sulle dosi di vaccino a disposizione il commissario ha affermato con le dosi in arrivo da qui a settembre avremo oltre 54 milioni di dosi mrna impiegabili e chiudiamo sicuramente la campagna se ci dovesse essere un anticipo deciso a livello europeo ci darà ulteriori possibilità di velocizzare cure vac era un'opzione ma è rimasta tale la campagna è già tarata su quello che abbiamo già a disposizione cioè fatemi capire altre 54 milioni di dosi entro settembre allora la situazione al momento è questa 29 milioni di italiani hanno ricevuto almeno una prima dose e 14 milioni due dosi sottraendo circa 6 milioni di bambini sotto i 12 anni rimarrebbe una dose per abitante ma siamo sicuri che alcuni accorreranno per farsi la seconda e la terza dose temendo come un drogato di finire in crisi di astinenza e d'altra parte sono sicuro che milioni di altre persone uscite dalla matrix cederanno volentieri la dose ordinata per loro e guarderanno in faccia la realtà la vita è bella e vale la pena di essere vissuta pienamente da donne e uomini liberi e coraggiosi buonissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo senza il vostro aiuto di cui vi siamo profondamente grati non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarsi tramite le mail in descrizione per essere avvisati sull'uscita dei nostri video potete iscrivervi al canale mettere un like attivare la campanella e condividere i video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robin